Se durante il lockdown noi genti di viaggio e tour operator avevamo la speranza che il governo potesse aiutarci a superare una crisi che fin da tempo si è mostrata spaventosa quanto il virus che ha stroncato le vite di tante persone, oggi si sono spente tutte le aspettative. Aspettative di chi negli anni ha costruito con lavoro e fatica la propria realtà, piccola, media e grande che sia, comportandosi correttamente e pagando le tasse al governo nazionale, alla propria regione e al proprio comune. Noi non evadiamo le tasse, fatturiamo pure il centesimo e questo, permettetemi di dirlo, è un virtuosismo in Italia e per questo non ci siamo mai arricchiti con le nostre attività, ma abbiamo vissuto decorosamente. Oggi siamo ad ottobre, abbiamo attraversato l'estate, subito il bonus vacanza, normative che ogni giorno cambiano, continuate a provare a ottenere rimborsi da compagnie aeree arroganti e prepotenti, richiesto aiuti. Abbiamo ricevuto l'elemosina del governo nazionale e forse, ancora in Sicilia attendiamo, quattro spicci da regioni che neanche coprono i costi fissi di un mese di attività. Di pacche sulle spalle ne abbiamo avute tante dai nostri politici locali e nazionali, tutti pronti ad ascoltarci con interesse ma tenendo ben stretti i cordoni della borsa. Loro sono ottimisti, si riprenderà a viaggiare in futuro, ma per noi non c'è già un futuro oggi. Non si chiuderà più il lockdown, ripetono ogni giorno come un mantra, ovvero non daranno più aiuti. Pertanto non resta che aspettare chissà quanto mesi, seduti alla propria scrivania, tra il silenzio surreale di telefoni che non squillano, mentre ricordi di clienti allegri e spensierati si aggirano come fantasmi tra le mura. Ancora una volta, umiliandoci, chiediamo al governo nazionale e regionale interventi efficaci che permettono alle nostre attività di traghettare al post-covid con dignità. Ancora una volta, umiliandoci.